Il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua. Oggi ne parliamo con il professor Andrea Rinaldo, docente di costruzioni idrauliche all'Università di Padova e all'Ecole Polytechnique Federal di Lausanne e vincitore per l'anno 2023 dello Stockholm Water Prize, soprannominato anche Nobel dell'acqua. Buongiorno professore. Qual è il senso e l'importanza di avere una giornata mondiale dedicata all'acqua? Cosa ci facciamo o cosa dovremmo farci con questa giornata? La giornata di attenzione ai temi dell'acqua è certamente fondamentale. L'acqua è al centro della storia naturalmente perché, come diceva il poeta, migliaia hanno vissuto senza amore e non uno senza acqua. Allora, l'idea è che, data la considerazione che abbiamo realmente abusato dell'acqua in molti modi in passato, in particolare in quell'epoca di transizione, diciamo, dagli anni 50 al 900 in cui non c'era attenzione per l'ambiente, in cui l'idea che bastasse in qualche modo arricchirci tutti per ridurre i problemi, che era una visione che alcuni economisti avevano proprio messo e avevano anche teorizzato. Insomma, ci sia risconto che non è vero e che la necessità di conservarla, di cominciare a dare un valore reale ai servizi degli ecosistemi, al capitale naturale, come parte integrante dell'economia di un paese è diventato importante, è diventato fondamentale. La giornata dell'acqua in tutto il mondo, ce lo ricordo, viene declinata in molti modi. Avrò avuto 20 inviti per andare in posti diversi, ma c'è una giornata lincea dell'acqua in particolare, in cui vengono esaminati i temi più urgenti. Secondo noi c'è questa compresenza di piene di siccità, che sono due facce della stessa medaglia appunto del cambio climatico. Parlando quindi proprio di piene e di siccità, sono questi i maggiori problemi, le maggiori sfide da gestire nel nostro paese per quanto riguarda la gestione della risorsa idrica? Ce ne sono tante, anche perché hanno ramificazioni di tanti tipi. Piene di siccità certamente sono problemi che riguardano tutti, anche la casaliglia di Boghera, come diceva Arugasini. In realtà ci sono i problemi della qualità dell'acqua, sono altrettanto importanti, importanti di una giusta distribuzione dell'acqua, diventano vitali per il terzo mondo, per l'Italia oggi, in particolare sulla scia di quello che abbiamo visto nel 2023, cioè questo passaggio della preoccupazione alla fine di aprile per la siccità che è prolungata solo in una parte d'Italia, fra l'altro, quindi con delle variazioni importanti, fra nord e sud, in questo caso il sud è andato bene, e nel giro di 15 giorni le piene della Romagna, che sono state a loro modo veramente paradigmatiche, perché spaventose per la loro natura, non può non preoccupare. Quindi questo è il tema su cui ci si concentra in particolare oggi. Certo. E professore, lei ha parlato più volte di governo dell'acqua. Io oggi vorrei proporle in realtà una riflessione parallela di qualcosa che potremmo definire forse cultura dell'acqua, nel senso, intendiamo quella profonda consapevolezza della relazione tra ambiente, acqua e salute umana condivisa, radicata non solo dai decisori politici, ma proprio a livello di comunità, a livello collettivo. A che punto siamo, secondo la sua opinione, per il consolidamento di una cultura dell'acqua intesa in questo senso? Beh, diciamo che a lei è perfettamente ragionata, è proprio così. Cioè noi naturalmente isoliamo delle volte degli agriomenti perché il modo migliore per affondare in qualunque progetto è quello di allargarlo troppo. Ma quello che manca forse nel paese veramente, ma in generale, è il civismo, un'educazione civica, per cui per esempio la cultura del risparmio dell'acqua. Israele, per esempio, che è un grandissimo gestore di risorse idriche, ha una spasmodica attenzione sul controllo delle perdite, sul risparmio, sull'attenzione a questo, anche se in realtà non avrebbe bisogno. Quindi sì, è proprio così, è un problema culturale, l'idea che in qualche maniera risorse che diamo per scontato, l'acqua è di tutti e quindi non fa vedere che, per esempio, c'è un costo nell'acqua che riesce dal rubinetto della casa, che molto spesso è un costo che viene tenuto arbitrariamente politico, cioè basso. Le cose stanno cambiando, stanno cambiando in meglio. Nel sud Italia, parliamo diciamo climatici, che forzano ancora di più questo sistema, c'è una grande organizzazione, in particolare la Sardegna, particolarmente organizzata con i sistemi di invasi, con la tariffazione e quant'altro. Diciamo che in generale io vedo un percorso non velocissimo, ma certamente che migliora le situazioni. Quindi stiamo facendo dei passi avanti per la promozione di una cultura dell'acqua e cosa potremmo fare, cosa si dovrebbe fare a livello anche di università, di enti di ricerca, per impegnarsi in questo senso. Certamente una cosa che mi piace dire è che questa cultura dell'acqua, questa cultura anche tecnica dell'acqua in Italia, c'è e c'è da tanto tempo, c'è sempre stata. La tradizione delle bonifiche, più che centenarie in questo paese, fa sì che esista una capillare conoscenza dei problemi dei territori, della gestione dell'acqua, del governo dell'acqua, come se si tenga presente che nelle bonifiche in larga parte, una parte importante dei territori del paese recuperati all'agricoltura, alla civiltà, a qualcos'altro eccetera, sono trasformazioni di aree umide, quindi generalmente anche sotto il livello medio del mare, quindi che necessitano di questa conoscenza. E l'altra cosa che voglio dire però, e lo dico spesso, è che la comunità scientifica idraulica italiana, è assolutamente di primo ordine, il premio che ho preso l'ho sentito a parte di grande soddisfazione, ma anche come riconoscimento a una comunità che è veramente molto di primo piano nel mondo intendo, non soltanto localmente, non ce lo diciamo solo da noi insomma. Certo, quindi avendo diciamo a casa nostra queste eccellenze, forse abbiamo anche in un certo senso la responsabilità di esportare questo sapere e questo impegno. Oltre meno di usarlo, perché non è detto, non è perché tutti i governi sa, in antico per esempio, molto spesso quando le opinioni scientifiche e tecniche sono veramente autorevoli e pesanti, spesso la politica non le ha volute, perché la decisione ultima deve essere poi sempre politica insieme a questo sistema, lo è in ogni caso, però il grado di ascolto della cultura tecnica è un argomento importante, noi abbiamo tutti gli elementi per poterlo fare, senti che sa leggere e scrivere dappertutto in Italia, leggere e scrivere culturalmente parlando di acqua. Sì, allora io le abbiamo toccato un po' tutti i punti che avevo in mente, non so se c'era qualcos'altro che le voleva aggiungere sull'argomento, altrimenti... Beh, intanto di non lamentarsi della pioggia quando è così lenta e quando fa neve, perché è una ricarica degli acquiferi che aveva un bisogno straordinario, quindi non lamentatevi dell'acqua quando cade, che naturalmente no, credo che fosse anche in qualche sacra scrittura dicendo che l'uomo si lamenta sempre quando ce n'è troppo e quando ce n'è troppo poca, ed è probabilmente vero. In più, in generale, l'idea è che una cosa che dovremmo fare sicuramente è immaginare che in questo clima che cambia rapidamente dobbiamo cambiare anche noi, cioè bisogna prepararci a delle decisioni difficili che dovranno per forza essere prese, è meglio se vengono prese non nell'urgenza del pericolo, ma razionalmente a freddo. Per esempio, ci sono diverse questioni che riguardano e che altri hanno affrontato, di quali agricoltura possiamo permetterci se l'acqua che arriva mandata dal cielo è di meno. Dobbiamo chiederci quali irrigazioni, quali privilegi consolidati, magari da centinaia di anni, quelle che un bravissimo geografo chiamava le strutture invisibili, quelle in cui l'opera dell'uomo e le opere di governo dell'acqua, che sono invasive spesso, incontrano le tradizioni dei luoghi, le sensibilità collettive, gli ordinamenti giuridici, l'organizzazione politica e sociale, cioè ogni ente, ogni comunità privilegiata è per forza conservatrice perché vorrebbe tenere qui i privilegi, alcuni di questi privilegi andranno rivisti naturalmente io credo. Quindi ci aspetta una decisione difficile insomma. E l'altra cosa è che è un argomento su cui rifletto spesso, non condiviso da molti, è che la soluzione vera del problema sarebbe questa che viene chiamata la mitigazione, cioè la riduzione del problema dell'escaldamento globale, cioè la febbre del pianeta. E questa richiede però un consenso diciamo di ricchi e di poveri, di nord e di sud del mondo, ricorda un accordo globale che io credo che sia difficile immaginare che possa essere fatto per tante ragioni. E quindi non ci rimane che l'adattamento. Cioè l'esempio della Romagna, l'esempio del Torrente Idice per esempio che rompe e questa acqua che a miliardi di metri cubi al secondo va verso la città di Consenice, è particolare perché quando ha rotto il fiume, il 13 maggio del 2023, ha abbandonato l'albero del tutto. Quindi è evidente che nel manipolare per il bene comune le pianure, insomma abbiamo fatto diverse cose che sono pericolose, sono non sostenibili. La Padova, il livello di piena del Brenta, a Limena è di 22 metri sul medio mare, la quota del prato della valle è 12 metri sul medio mare. La Padova è una grande tradizione di grandi opere pubbliche, ingegneria come il canale scaricatore che diventano rapidissimamente un bene di pregio culturale e ambientale. L'adattamento vuol dire quantomeno dove non sia possibile fare diversamente, immaginare di essere noi e non il fiume e decidere dove deve succedere il disastro. Se deputare certe aree, su questo si muove molto, so che il commissario all'emergenza sta considerando tutte queste possibili opzioni, ma certamente non si può chiedere alla politica di risolvere i problemi in un secondo, perché sono problemi antichi che ci portiamo dentro da cent'anni. Ma insomma sono fiducioso che troveremmo un modo ragionevole di contemperare questi problemi. Certamente dobbiamo cambiare anche noi.